Un percorso di 12 mesi che punta a reinserimento lavorativo di 16 persone a rischio di discriminazione prese in carico per diversi motivi dai servizi sociali. Si chiama Giri di Boa ed è il progetto gestito dalla cooperativa Lariso in partenariato con la cooperativa Progetto H di Macomer che è stato presentato questa mattina alla stampa presso il CESP di Prato Sardo. Quattro mesi di percorso in aula focalizzati sullo sviluppo di competenze e di esperienze personali per la costruzione di un progetto personale che sfocerà a partire da maggio in un tirocinio di 5 mesi. Oltre a realizzare le azioni previste dal bando abbiamo proposto delle attività aggiuntive come per esempio due laboratori finalizzati alla socializzazione e allo sviluppo delle competenze trasversali. Abbiamo cercato di valorizzare le aziende anche del territorio, abbiamo avuto circa 40 adesioni di aziende disponibili ad ospitare persone che seguiranno un percorso di riallinamento delle competenze, bilancio di competenze, orientamento per poi dare anche una possibilità e anche una speranza di cambiare il percorso della loro vita, per questo anche il nome è Giro di Boa. Presente a distanza anche Maica Versano, direttrice generale dell'ASPAL, l'ente finanziatore del progetto a valere sull'avviso liberi e in presenza di Giuseppina Boeddu, direttrice dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Nuoro. L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna è un ufficio territoriale del Ministero della Giustizia, del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, è un ufficio che segue persone in esecuzione penale esterna ed è un ufficio che cura l'inserimento delle persone che commettono reati, quindi adulti condannati ma anche adulti imputati. È un po' un lavoro che si fa insieme, insieme alla cooperativa Lariso, alla cooperativa Progetto H e ognuno di noi cerca di fare un percorso mantenendo pur sempre le proprie competenze specifiche.